Io sinceramente mi aspettavo una gara così perché abbiamo giocato contro una squadra che è l'opposto di quella affrontata la settimana scorsa. Una squadra esperta che ha tanti giocatori intercambiabili che giocano nel 4, nel 3, non danno riferimenti, giocano una palla a canestro con poche regole e tanto talento e noi contro quelle squadre là chiaramente facciamo un po' più fatica perché decifrare tutto e subito non è semplice. Abbiamo fatto degli errori difensivi ma abbiamo tenuto loro comunque a 58 punti e questo è un grande merito ai ragazzi che nonostante non fossimo fluidi in attacco per i loro meriti più che per i nostri demeriti sicuramente hanno giocato una gara solida tenendo un attacco come Piazza Armerina a 59 se non sbaglio. Forse un leggero blackout nel terzo periodo verso la metà del terzo periodo dove la luce si è spinta. Sì, abbiamo smesso di fare le cose che abbiamo fatto bene, non ci abbiamo creduto più, abbiamo iniziato a pensare che quelli fossero gli errori invece erano solamente mancanze di tiri, cioè mancanze di percentuali e abbiamo iniziato a fare cose un pochino strane però abbiamo ripreso il filo, un canestro molto importante di Trapani ci ha rimesso in carreggiata e poi abbiamo giocato due buoni attacchi di movimento ma soprattutto la difesa a retto, loro dovevano calare e va bene così. 14 punti in questo play, Nino, si avvicinano ai playoff? No, nel senso che dobbiamo vincere una partita fuori casa, è come il break del tennis, per ora abbiamo mantenuto il servizio, ora dobbiamo strappare il servizio all'avversario. Secondo Marco Trasente, secondo vittoria consecutive in casa, volano a Scandona. Sì, siamo molto felici della vittoria di oggi sinceramente, abbiamo giocato contro una squadra molto dura, una partita molto combattuta fino a quasi gli ultimi secondi quindi questo fa bene al gruppo, fa bene alla classifica e fa bene ai tifosi. Oggi i tifosi sono stati impeccabili sulle cretinate del Del Mauro, quasi mille, a sostenere la tua Scandona. Anche molto rumorosi, oltre alla vittoria, vedere che ci sono sempre più persone che vengono al palazzetto a seguirci è una cosa che ci riempie gioia sinceramente. Marco, una dedica particolare per questa bella vittoria? Questa vittoria innanzitutto la dedico a tutti i tifosi che oggi, nonostante i problemi di logistica con il parcheggio, perché c'era in concomitanza la partita dell'Avellino Calcio, hanno riempito i gradoni nel palazzetto quindi penso che la tribuna era quasi cremita se non del tutto cremita, quindi è una cosa bellissima. Marco, ti faccio questa domanda, se la Scandona dovesse accedere al playoff a questa curva, verrà aperta? Io lo spero, io spero che ci troviamo un giorno in difficoltà, che abbiamo tante di quelle persone che devono riuscire a ospitare in tribuna quindi poi sicuramente chiederemo la possibilità di avere un altro settore. Oggi erano quasi vicino a me i tifosi con le sede sotto la mia postazione, quindi già c'è fame di Scandona l'Avellino? Fortunatamente, fortunatamente. Una delle prime conferenze che facemmo dissi fateci lavorare e poi ci giudicate. Penso che stiamo sulla strada giusta.